Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose comparabole e disse ecco il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava una parte cadde lungo la strada. Vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso dove non c'era molta terra. Germogliò subito perché il terreno non era profondo ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto. Il cento, il sessanta, il trenta per uno. Chi ha orecchi ascolti. Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero perché a loro parli comparabole. Egli rispose loro perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli ma a loro non è dato. Infatti a colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza ma colui che non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo comparabole perché guardando non vedono. Udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia che dice. Udrete sì ma non comprenderete. Guarderete sì ma non vedrete. Perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile. Sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi. Perché non vedano con gli occhi. Non ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca. Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate ma non lo videro e ascoltare ciò che voi ascoltate ma non lo ascoltarono. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il sieme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e l'accoglie subito con gioia ma non ha in sé radici ed è incostante sì che appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il cento il sessanta il trenta per uno. Oggi onestamente non ci sarebbe bisogno di spiegare il Vangelo perché fa tutto Gesù Vangelo e Omelia però sento il bisogno di contemplare la figura di questo seminatore che come nel quadro di Van Gogh semina quasi distrattamente il seme della parola. Pare si allontani rispetto al tracciato andando a settare il seme fuori dei solchi preparati pazientemente dal contadino. Semina dappertutto sulla strada nei rovi sul terreno sassoso come un seco mandato solitario senza riferimenti intorno a lui. Ma in realtà dove semina costui? Dirà la liturgia dei vespri il figlio di Dio viene per seminare nei solchi dell'umanità il seme della parola bellissimo. Quel seminatore semina nei solchi dell'umanità. I solchi dicono delle spaccature, dei tagli, delle fenditure, scavi aperti, segni, ferite. I solchi di un viso sono le rughe. È l'umanità segnata dal tempo e dalla storia. È la storia stessa che apre e richiude quel terreno su cui il seco seminatore getta il seme. E così la storia degli uomini diventa lo stesso regno. Nel dipinto di Van Gogh l'andamento cronologico della semina è capovolto. Dietro il seminatore brilla già l'oro del grano come se Dio vedesse già nei solchi aridi della terra la luce del regno che verrà. Ma in fondo la semina non è nella fede già tempo di raccolta. La terra non copre forse il suo segreto per il tempo dell'incubazione per aiutarci a credere ciò che non è ancora, ciò che sarà, che fiorirà, che darà frutti. La semina è il tempo di gettar via piangendo, come dicono i salmi, per poi raccogliere in letizia. Concludo a proposito con questo bel passaggio di una teologa protestante, Lidia Mazzi. Il seme della parola è potenzialità di vita che ha bisogno di incontrare il nostro cuore, desiderio di amore e felicità. Il predicatore itinerante si accosta a riva, scende dalla varca, circondato dalla gente e mentre lo vedo riprendere il cammino mi chiedo cosa vogliano dire queste sue parole. Mi interrogo e sento che questa domanda fa penetrare quel seme più a fondo dentro il mio cuore. Sento calore, gioia, serenità. Ho ricevuto un messaggio dal futuro. Sono gravida del regno e non mi sento più sterile. Sono come una donna che ha appena scoperto di essere incinta, che si accarezza il ventre ancora piatto. Nessuno sa quello che lei già conosce. In lei vi è una nuova vita, invisibile agli altri, eppure così concreta, promessa di domani. E non mi sento più sterile, vuota. Sono gravida di una nuova realtà che già esiste, anche se ancora gli altri non lo scorgono. Il regno è anche questo, un pezzo di cielo piantato dentro ogni credente, che attende di crescere per dischiudere orizzonti.